Allora benvenuti e benvenute tutte e tutti quanti a questa fantastica conversazione con il grande filosofo della filosofia postumanista italiana Roberto Marchesini. Abbiamo parlato con Roberto nella nostra conversazione precedente sulla tematica della zooantropologia. In questa discussione invece parleremo della ibridazione specificamente legata alla tecnologia ma non solo per poi entrare nell'ultima parte di questa conversazione nel nostro terzo video al tema del biocentrismo. Quindi entriamo Roberto nella riflessione della tecnosfera che è proprio il lavoro su cui ti stai attuando in questo momento e sull'ibridazione. Come concepisci tu l'ibridazione? È un'ibridazione organica? È un'ibridazione tecnologica, culturale? In che modo tu definisci l'ibridazione? Allora innanzitutto dal mio punto di vista l'ibridazione va orizzontale su tutti gli aspetti, quindi non ci sono confini in questo ambito. Però quello che vorrei dire è che in una visione postumanista il concetto di ibridazione è al centro, cioè proprio è il punto fondamentale intorno a cui ruota gran parte diciamo della filosofia postumanista. Per capirlo bisogna partire da come solitamente nella visione umanista viene considerato l'essere umano, la tecnopoiesi, cioè l'emergenza della tecnologia o della tecnica e nello stesso tempo il significato della tecnica. Questi sono i tre aspetti da prendere in considerazione. Nella visione umanista l'essere umano è come ce lo descrive Esiodo o Platone nel Protagora ciò che poi viene ripreso da Picco della Mirandola nel De Ominis Dignitate che diventa un po' il manifesto dell'umanesimo. L'essere umano è privo di rango, cioè privo di una dimensione naturale perché è stato sostanzialmente dimenticato da Epimeteo. Quindi questa dimenticanza Epimeteo che ha dato le virtù a tutti gli animali e ha dimenticato l'essere umano. Quindi l'essere umano da un punto di vista naturale viene concepito come incompleto, mancante, insufficiente e questa insufficienza viene in qualche modo come risarcimento, potremmo dire, oppure anche come completezza, viene risolta da Prometeo che appunto ruba il fuoco che permette all'essere umano di plasmare il mondo e la tecne, cioè come la capacità di costruire degli strumenti. Quindi con il fuoco e la tecne diciamo l'essere umano prometeico, quindi figlio di Prometeo e qui c'è una differenza ontologica, possiamo dire genealogica tra l'essere umano e le altre specie perché le altre specie sono sostanzialmente figlie di Epimeteo, l'essere umano è figlio di Prometeo e questa visione se vogliamo arriva da Platone, da Protagora di Platone fino ai giorni nostri, fino alla visione di Arnold Galen, Plesner, Scheller e altri. Il punto centrale è che con Darwin l'idea di un'incompletezza dell'essere umano viene completamente a decadere, innanzitutto perché non esiste la perfezione e non esiste la completezza nel pensiero darwinista, cioè l'adattamento e il processo evoluzionista, un continuo, come dire, trasformazione e quindi non esiste la perfezione, non esiste l'imperfezione, esiste la completezza e non esiste l'incompletezza, quindi già da un punto di vista teorico non potrebbe essere. Come secondo aspetto non potrebbe essere da un punto di vista darwiniano perché non può emergere un animale totalmente inadatto a sopravvivere, quindi dal momento che la fitness è la capacità replicativa del singolo soggetto e quindi non potrebbe esistere un animale incapace e nello stesso tempo anche l'idea che dei comportamenti prosociali abbiano in qualche modo diminuito alcune pressioni selettive, noi sappiamo che le pressioni selettive non possono essere azzerate ma solo modificate, slittate, quindi da un punto di vista teorico questa visione non regge. Da un punto di vista fisiologico o di anatomia comparata questo essere umano incompleto non si capisce bene come possa essere dal momento che abbiamo 100 miliardi di neuroni, cioè proprio incompleti, incompleti non siamo, abbiamo delle capacità visive che nei mammiferi sono più uniche che rare, abbiamo una capacità di coordinamento oculo-manuale che è incredibile, abbiamo una struttura di specializzazione del bacino che ci permette l'andatura bipede a differenza degli altri primati e quindi siamo degli specialisti, non siamo affatto delle entità larvali incomplete, mancanti, siamo a tutti gli effetti degli specialisti nel mondo dei mammiferi, nel mondo dei primati, abbiamo delle caratteristiche morfologiche, fisiologiche e comportamentali molto ben definite. Quindi questa visione di essere umano incompleto non regge, diciamo che può reggere in un certo senso, nel senso che a posteriori, nel momento in cui io mi leggo a tantissimi aspetti culturali, tecnologici, insomma che danno del comfort ovviamente e che cambiano la percezione anche di ottimale. È chiaro che a posteriori la sola idea di svestirmi di questa tecnologia mi può far sentire incompleto, mi può far sentire mancante, ma è una percezione a posteriori, non a priori. Cioè non è una mancanza a origine che produce la tecnologia, ma semmai l'avvento della tecnologia ti fa sentire mancante a posteriori. Insomma, io negli anni 70 non mi sentivo mancante del cellulare, non è che andavo in giro e mi sento tanto mancante del cellulare. Nel momento in cui ho il cellulare, se non funziona o lo perdo, quando è andato mi sento mancante di qualcosa. È come l'innamoramento, cioè ti senti mancante dell'amato dopo che ti sei innamorato, non prima. Quindi è molto importante a mio avviso parlare di una percezione di carenza. Una percezione di carenza che è legata appunto agli standard performativi, è legata anche al fatto che un bambino che cresce con una certa tecnologia in qualche modo modifica anche il proprio corpo, perché per esempio alcuni organi non vengono più esercitati. Nel momento in cui abbiamo delle macchine che eserciano una forza motrice forte, l'essere umano utilizza meno i muscoli. Nel momento in cui abbiamo la calcolatrice utilizziamo meno il calcolo. Oggi col cellulare utilizziamo meno la memoria, per cui non ci ricordiamo più i numeri di telefono, non solo degli amici, ma neanche il nostro. Quindi è chiaro che c'è, da un punto di vista ontogenetico, una diminuzione molto forte di esercizio di alcune parti del corpo per cui tu ti colleghi e ti leghi in maniera molto forte alla tecnologia. Quindi abbiamo questa percezione ontogenetica di carenza, ma non una carenza a priori, ma è un effetto a posteriori. Quindi in questo senso è molto interessante, appunto tu parli di varie tradizioni che si rifanno a Prometeo. Io penso proprio, per esempio, allo stesso movimento transumanista che vede in Prometeo un pochino la figura mitologica. Quindi in questo senso è un superamento sia di Prometeo che di Epimeteo o è un ritorno a Epimeteo a livello mitologico, diciamo, del pensiero, di creazione del pensiero, della visione del pensiero a livello appunto mitologico? È come se ibridassimo a questo punto Prometeo e Epimeteo. Entrambi sono i grandi alchimisti dell'essere umano. Cioè l'essere umano ha una natura con delle proprie caratteristiche, ma ha anche questa tendenza ad andare oltre la propria natura e quindi è nello stesso tempo Epimeteico e Prometeico contemporaneamente. Ma questo non nasce, la tecnopoiesi, non nasce da una mancanza, ma nasce da un desiderio, nasce da una proiezione. L'essere umano è fortemente desiderante. L'essere umano tende a proiettarsi in tutto ciò che vede, tende a immedesimarsi in tutto ciò che vede. C'è questa tendenza all'imitazione, alla rappresentazione, alla riproduzione in tutte le tipologie, da quella artistica a quella tecnologica. Quindi l'essere umano ha questa ridondanza che gli produce questo continuo desiderare, questo essere desiderante che è se vogliamo ridondante, se vogliamo straripante più che carente. Quindi è un po' un invertire questa visione dell'antropologia classica che invece ci vede come mancanti e vede la tecnopoiesi come una stampella che noi ci costruiamo per raggiungere gli obiettivi che le altre specie raggiungono invece da un punto di vista naturale. Quindi la tecnopoiesi nasce nel momento in cui l'essere umano si proietta nel mondo, accoglie il mondo, si fa accogliere dal mondo. La tecnopoiesi è sempre un processo creativo, quindi è emergenziale, è basato sulla serendipity, è basato su qualcosa che non è mai predittibile. Noi non possiamo mai prevedere un processo tecnopoietico. Roberto, perché è tecnopoietico e non solo poetico? Che differenza avevi? Perché penso Heidegger per esempio che appunto nella questione sulla tecnologia proprio definisce la tecnologia come poiesis. Quindi tu e perché dobbiamo aggiungere techno? Perché per me la poiesis è diciamo riguarda tantissimi aspetti della dimensione umana, quindi non solamente la dimensione della tecna. L'essere umano si esprime in tantissime dimensioni, penso alla dimensione artistica, penso alla dimensione narrativa, penso a tante dimensioni. Quindi la è invece tecne, quindi come capacità di acquisire un'arte, quindi una disciplina o la capacità di costruire un supporto è un evento tecnopoietico che modifica la capacità predittiva e la capacità operativa dell'essere umano. Però esistono tantissime altre dimensioni, quindi certamente la poietica è molto più vasta come dimensione dell'essere umano. Però se usiamo la parola poietica potremmo dire che ancora una volta la poietica non nasce da una carenza dell'essere umano, ma nasce proprio da questa forte ridondanza dell'essere umano. L'essere umano è uno tsunami, non è un laghetto che si sta prosciugando, quindi non è qualcosa di carente, di mancante, ma è qualcosa di estremamente esplosivo. E come poni tu questo essere umano all'interno di una ottica appunto geologica dell'antropocene? Perché appunto questo esempio del lago che si prosciugando che non è, penso anche al lago che si sta prosciugando, mi sembra che sia in Uzbekistan, questo lago che era il più grande nel mondo che adesso sta diventando così piccolo proprio per l'utilizzo continuo dell'acqua da parte degli esseri ormai attorno, per una questione appunto ambientale. Quindi come poniamo questa idea di questo essere umano che continuamente si potenzia all'interno di un discorso geologico appunto dell'antropocene in cui tutte le altre specie in realtà si stanno estinguendo anche proprio per questo continuo immaginarsi dell'essere umano, in senso anche di proiezione, anche in senso antropocentico. Come tu poni questa tecnopoiesis all'interno dell'antropocene? Allora io dico subito che la parola antropocene mi piace pochissimo perché ritengo che in realtà l'essere umano è molto più vulnerabile, è molto meno padrone di quello che sta succedendo, di quello che l'essere umano ritiene. Penso che l'umanismo e l'antropocentrismo ontologico dell'umanismo sia oggi un grande problema per l'essere umano perché l'essere umano non si rende conto di quanto invece è legato a tutto ciò che lo circonda. Quindi l'essere umano è l'entità più vulnerabile perché è quella più collegata. Quando io parlo di dipendenza sto parlando appunto di essere l'ultimo piano del castello fatto con le carte. Quindi sei l'entità più esposta ai suoi movimenti perché sei quella più fragile. L'essere umano si sente molto potente ma in realtà è l'entità più fragile perché è quella più dipendente. Quindi la tecnopoiesi non dà potenza all'essere umano ma dà correlazione all'essere umano. E questo è diciamo la terzo aspetto se vogliamo del nostro ragionamento. Vale a dire che cos'è la tecne? Cioè nel momento in cui prendiamo in considerazione il fatto che non abbiamo un essere umano carente che si in qualche modo completa attraverso la tecnica ma un essere umano che si proietta nel mondo e quindi accoglie il mondo, accoglie dentro di sé il mondo e in questo senso dà luogo per effetti emergenziali a dimensioni tecniche o poietiche in senso lato. Nello stesso tempo una tecnopoiesi quindi che è una ibridazione col mondo non è un apparto dell'essere umano, non è emanazione. Cioè la dimensione culturale non è un'emanazione dell'uomo. L'uomo come sole, la dimensione culturale come luce. No, la dimensione culturale è il frutto della relazione con le alterità. Allora da questo punto di vista la tecne non è più un potenziamento. Se noi andiamo allora a valutare la tecne ci rendiamo conto che le grandi differenze tra una concessione umanista che comunque considera la tecne come una sorta di probiotico, come una sorta di yogurt, capace e quindi di potenziare le nostre funzioni organiche. Quindi di essere un'entità che ha semplicemente un'azione quantitativa nel senso di estendere qualcosa o amputare qualcosa. Però il punto fondamentale è sempre questa visione di un'entità che non introduce niente di nuovo. Nella visione postumanista la tecne non è un probiotico, la tecne è assolutamente un virus, cioè che entra dentro e modifica il metabolismo, modifica i predicati, le performatività di quell'ente. Quindi nel momento in cui noi guardiamo la tecne come un virus ci rendiamo conto che è cambiato profondamente il nostro modo di leggere. Non possiamo più intenderlo come un potenziamento, ma come una metamorfosi. La tecne non è ergonomica, non si adatta al corpo dell'uomo, ma adatta il corpo dell'uomo. Cioè la tecne quando entra nel nostro corpo o quando si interfaccia al nostro corpo, modifica il corpo. Però la tecne non è separata dal corpo. Ci sono un paio di cose che ti vorrei chiedere. La prima appunto, vabbè, che non vedo una separazione... No, non è separata dal corpo. Non voglio dire che sia separata dal corpo. Voglio dire semplicemente che da un punto di vista della relazione col sistema nervoso centrale, con il sistema immunitario, con il sistema endocrino del nostro organismo la tecne non è mai ergonomica. non si plasma su questi apparati, ma plasma questi apparati su se stessa. Quindi è lei che va a settare il sistema endocrino, è lei che va a settare il sistema neurobiologico, è lei che va a settare il sistema linfatico. Detto questo, la tecne non è mai esterna al corpo, ma è sempre interna al corpo. Cioè non esiste una tecne non infiltrativa, perché è sempre infiltrativa. Nel momento in cui un bambino lavora su un computer, il suo sistema neurobiologico viene organizzato su determinate caratteristiche. quindi in un certo senso si somatizza sempre, si incorpora sempre e nello stesso tempo noi incorporiamo lei. Lei incorpora noi e noi incorporiamo lei. Quindi questa visione disgiuntiva è assolutamente errata. Cioè sono aspetti che sono ancora forti nella visione umanista. Cioè è ancora forte l'idea che la tecne ci potenzia o al limite ci depotenzia, ma comunque non cambia i nostri predicati. La tecne cambia profondamente i nostri predicati. Su questo io vorrei tornare sul tema di antropocene. Ci sono, per le persone che sono interessate alla tematica, però appunto magari non fanno questi studi, ci sono tutti degli studi critici sul concetto di antropocene. L'antropocene sarebbe l'era geologica in cui siamo adesso, in cui l'essere umano viene riconosciuto in quanto una forza geologica che ha un impatto diretto sul pianeta, sulle altre specie, sulla biosfera. Altre persone appunto riflettono sul concetto che antropos include tutti gli esseri umani, ma non tutti hanno lo stesso tipo di impatto. Per esempio Don Arawe parla di capitalocene, Bandana Shiva parla di bioparacy. Quindi ci sono dei vari concetti appunto limitrofi al concetto attuale di antropocene. Però vorrei tornare su questo tema qua perché in realtà siamo nella sesta estinzione di massa. Ogni anno ci sono più di mille specie che vengono estinte per la nostra azione nel mondo, per l'azione dell'essere umano nel mondo. E quindi io vorrei ritornare sulle nozioni di relazione, ibridazione dell'essere umano poietico, ma parliamo di una simbiosi o parliamo di un parassitismo? Perché nella relazione ci sono vari tipi di relazione. E quindi per me a questo punto della nostra storia in quanto specie dobbiamo pensarci anche come parte di un corpo maggiore che appunto è il pianeta e poi come parte di un universo e andiamo avanti fino al multiverso. Però vorrei ritornare su questa tematica dell'ibridazione. Come la vedi in questa stessa estinzione di massa? Moltissimi mammiferi stanno morendo, la plastica nell'oceano. Come vedi questo impatto ambientale proprio dell'essere umano? Sicuramente io non amo la parola antropocene perché non credo in questo monopolio. Credo fortemente che l'essere umano stia causando dei danni molto gravi. I danni molto gravi secondo me sono legati soprattutto ad alcuni cicli che vengono distrutti. Il ciclo del carbonio per esempio è uno dei tanti. Diciamo che il sistema planetario, la Terra come entità ecosistemica piena di ecosistemi è un'entità assolutamente su un equilibrio instabile e sta all'interno di range ben precisi e l'uomo sta mettendo a suo quadro questi range in modo tale da non causare degli effetti lineari. Quindi il rischio è veramente molto grosso. Diciamo che si stanno estinguendo moltissimi animali e questo è molto visivo e molti potrebbero dire che gli animali si sono estinti anche non per l'essere umano. Qui il problema non è tanto l'estinzione. L'estinzione a me sai benissimo che mi sta particolarmente a cuore perché tendenzialmente io penso che l'uomo dovrebbe in qualche modo mettere al primo posto nella propria agenda politica la distruzione del pianeta. Quindi è una cosa che mi sta particolarmente a cuore. Però il punto fondamentale è che i danni che stiamo facendo non li vediamo. Noi non ci rendiamo conto che mettere a rischio il ciclo del carbonio e il ciclo del carbonio significa che gli animali producono carbonio, le piante assorbono carbonio. Nel momento in cui noi attraverso l'utilizzo della zootecnia, attraverso pensiamo agli allevamenti bovini o all'utilizzo dei fossili, quindi del materiale fossile, dei combustibili fossili, noi stiamo emettendo un'enorme quantità di carbonio che non riesce a essere assorbito dalle piante e dai batteri. Quindi in un certo senso ci troviamo di fronte da una parte a una produzione eccessiva di carbonio, dall'altra a una incapacità di assorbimento di questo. Questa produzione eccessiva di carbonio determina un riscaldamento che provoca una disertificazione e una distruzione di molti microrganismi che dovrebbero assorbire carbonio. Oltretutto deforestiamo per fare monoculture e questa deforestazione riduce ancora di più la capacità di assorbimento del carbonio. Quindi si viene a creare una sorta di effetto paradosso dove prima avevamo un sistema tipo termostato, cioè a omeostasi, adesso ci troviamo di fronte a un sistema che rischia di andare verso l'autocatalisi. Allora sarebbe una distruzione totale. Per questo la parola antropocene mi dà un po' l'idea dell'uomo che abbia la capacità di avere in mano le previsioni di quello che succede, di avere in mano la stanza dei bottoni e questo assolutamente non è così. L'essere umano può semplicemente cercare di ridurre gli effetti disastrosi che sta producendo e sperare. Perché oggi come oggi gli effetti che noi realizziamo... noi vediamo quello che abbiamo fatto 30 anni fa, non vediamo quello che stiamo facendo oggi. C'è un tempo di latenza su questi sistemi in non equilibrio. Quindi certo è molto grave, è molto grave quello che sta succedendo, ma proprio perché l'essere umano non si rende conto che l'antropocentrismo, cioè l'idea umanistica dell'antropocentrismo ontologico, ancora prima che dell'antropocentrismo etico, è il suicidio. È il suicidio di massa che l'uomo sta mettendo in atto. E quindi il vero nemico dell'essere umano è l'antropocentrismo oggi. Non è ciò che salvaguardia la dignità dell'essere umano. L'antropocentrismo è il primo nemico dell'essere umano. Questo mi sembra un modo perfetto per terminare la seconda conversazione di questo fantastico dialogo che stiamo avendo qua a NYU con Roberto Marchesini, una delle voci di spicco della filosofia post-umanista italiana. Abbiamo parlato con Roberto nel primo video di zooantropologia, in questo secondo video abbiamo parlato di ibridazione, tecnosfera e nel nostro terzo ed ultimo video di questa sessione parleremo di biocentrismo. Grazie mille Roberta. Grazie a te.